Un weekend all'insegna del cioccolato animerà il centro storico di Teramo. Il 17, il 18 e il 19 novembre si svolgerà il Chocolate Days, un evento nazionale che porterà in città alcune delle migliori aziende del settore della cioccolateria. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Provinciale Casa Artigiani Teramo, dal Comune, in collaborazione con l'organizzazione Fiere d'Eventi e il Movimento Turistico del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane. Siamo davvero onorati e orgogliosi di poter organizzare l'evento del Chocolate Day Teramo. Questo rappresenta la prima tappa del tour che organizza il movimento del turismo del cioccolato e delle eccellenze italiane. Un movimento nato proprio con l'idea di far conoscere le bellezze italiane, non solo, anche le peculiarità dal punto di vista enogastronomico. Quindi porteremo avanti quello che è la scoperta del cacao, o meglio dire il cioccolato. Grazie anche al maestro cioccolatiere Fausto Ercolani abbiamo ricreato una piccola fabbrica, la prima fabbrica europea, la ciocofabbrica, che farà vedere in pratica qui in Piazza Marti della Libertà, qui a Teramo in questi tre giorni, la produzione del cioccolato. Dalla fava del cacao, tutto il processo produttivo, fino alla cioccolata. Casa Artigiani continua questa attività di organizzare eventi. Non a caso questa manifestazione che portiamo a Teramo nel fine settimana l'abbiamo già fatta a Pescara e a Lanciano e naturalmente c'è stato sempre un buon riscontro di pubblico. Ci auguriamo che anche qui a Teramo accade la stessa cosa.